Sì, stai spazzata come stava, ti metti in ginocchio per vedere meglio, non è una cosa da ridere. Così, venga così, dopo ci metteremo qualcosa. Via, porta, va! Tutti i registi fanno il capo, il contro capo, il totale con lui, quando hai fatto questo devi ancora cominciare. Sta comodi, sta comodi signora, come sta? Guarda in macchina. La rosina, la rosina di Verrucchio è la prima, è la prima a venir fuori dal mucchio. Mi hanno preso come sosia di Ben Davis. E io sono il sosio di Lucio Dalla. Attenzione, fermi tutti. Sì, siamo dalla mattina alla sera chiusi, tra noi creiamo un mondo a parte, è una Selinopoli. 10.33, 5.15.